Buongiorno, mi chiamo Tommaso Bonato, sono un dipendente cantonale e lavoro come psicoeducatore presso l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Ho accettato di candidarmi a sostegno dell'MPS perché ritengo che sia l'unica organizzazione politica che si batte realmente e concretamente per cambiare le cose. Ad esempio, di fronte all'ennesimo taglio delle pensioni di moltissimi ticinesi, l'MPS è l'unica vera forza politica che sostiene con più coerenza la lotta contro un secondo taglio del 20% di queste pensioni. Se come me siete stufi di una certa gestione del cantone, votate la lista MPS.